Ancora segnalazione di degrado aqualiano, questa volta si tratta di via Falcone lato circunvallazione esterna. Uno scenario di degrado che non è possibile ignorare. Vegetazione abbandonata a se stessa, ormai ha invaso la carreggiata. Nascosti in essa rifiuti plastici edili. Una condizione che è frequente riscontrare nelle periferie cittadine, quelle lontane da occhi indiscreti. Persone senza scrupoli li abbandonano i rifiuti approfittando della zona poco frequentata. Via Falcone, infatti, è una zona critica ed è spesso oggetto di tali pratiche incivili. Molto spesso è utilizzata anche da persone che fanno jogging e si ritrovano in un contesto pericoloso. Resta il fatto che gli interventi di diserbo assenti non facilitano di certo le condizioni. Necessaria più attenzione e maggiore controllo del territorio. Si tratta di una richiesta che avanziamo costantemente, e siamo sempre più convinti che per stroncare il fenomeno siano necessarie politiche ambientali cittadine coraggiose. Sicuramente passerebbero anche attraverso investimenti per dotarsi di una seria infrastruttura di controllo. Essa potrebbe però agevolare in ogni campo la polizia locale nel controllo del territorio. Siamo convinti che i cittadini per questo tipo di investimenti non avrebbero obiezioni se il risultato fosse maggiore sicurezza e maggiore controllo delle periferie. Le immagini che mostriamo danno testimonianza di una prassi intollerabile, come allo stesso modo è intollerabile che i rifiuti restino a terra per mesi e mesi con un'unica certezza. Il continuo accumulo che poi in genere finisce distrutto in un ruogo tossico. Grazie a tutti.